Domenica 14 aprile alle 14.30 e di nuovo alle 19.30 verrà nuovamente trasmesso sulla nostra rete in replica a grande richiesta l'intervista al noto direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo, ospite lunedì scorso della nostra rubrica di approfondimento quotidiano Prima Pagina. Gli autori sono molto importanti perché hanno diversi ruoli, uno psicologico per esempio, che bisogna sostenere e aiutare, uno professionale ovviamente e un altro che mi sono assunto e credo di svolgere è quello di far diventare le persone con cui lavori, tutte le persone con cui lavori, quindi quelli che lavorano in una trasmissione piuttosto che in un laboratorio, un gruppo coeso che voglia raggiungere un obiettivo insomma. Questa cosa qua, questa complicità diciamo, credo che si veda anche in televisione, cioè si capisce che la gente che è su quel palco di Zelig si diverte e in fondo si vuole anche bene. Il direttore è passato dal Valdarno per via delle semifinali regionali del format ideato da Zelig Open Mic in Tour, con cui da mesi sta girando l'Italia alla ricerca di nuovi volti da lanciare in grande stile nella prossima stagione teatrale. Le semifinali toscane si sono tenute allo spazio politeama di Montevarchi e Giancarlo Bozzo tornerà nuovamente in Valdarno per la finalissima del 20 aprile in cui verrà votato dal pubblico presente l'artista vincitore. Ci si aspetta una gran battaglia, si vince una piccola cosa venire a Zelig a fare una serata con il proprio spettacolo, però secondo me per qualcuno può essere emozionante come lo è sempre per me tutte le sere. L'appuntamento con la nostra intervista al direttore artistico di Zelig è dunque per il pomeriggio di questa domenica sulla nostra rete per risentire gli aneddoti dei suoi 38 anni di storia della comicità italiana.